Esecutiva, clima positivo, anche il Sarau è tornato ad allenarsi. E Rami però guarda avanti, la prossima stagione vinceremo noi. Sotto il sole del Texas, un duello western, l'ultima curva ad Austin tra Rossi e Marquez sarà ancora una grande sfida, dalle 16.40 le prime prove libere del Gran Premo delle Americhe.